L'ex consigliere Pasquale Marino interviene sull'area verde di fronte all'ospedale San Paolo dove il sindaco vorrebbe realizzare un parco. Sono terreni gravati da usi civici. Non si placa la polemica sulla vicenda ai talcementi. Pietro e Marietta Tidei bacchettano l'ex sindaco Gianni Moscherini. Il cartellone estivo non esiste, polemiche a Santa Marinella con l'azione Punto Zero che attacca il sindaco Roberto Bacheca. Ok in line dopo aver fallito di un soffro la promozione sul campo per gli snipers arriva l'ufficialità di ripescaggio in Serie A2. Buonasera a tutti e ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione. La realizzazione del parco attrezzato sui terreni antistanti all'ospedale San Paolo di Civitavecchia sarà di difficile attuazione. A quanto pare, secondo quanto raccontato dall'ex consigliere di maggioranza Pasquale Marino, i tentativi individuati dal primo cittadino apparterebbero alla agraria, ma non solo. Una società della Toscana sta legittimando i terreni gravati da usi civici per costruire appartamenti e un supermercato. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'idea del sindaco Pietro Tidei di far realizzare all'Enel un parco attrezzato nel terreno antistanti all'ospedale San Paolo di Civitavecchia potrebbe per essere realizzata dover superare alcuni ostacoli. A quanto pare, infatti, i terreni in questione sarebbero gravati da usi civici, ossia sono di proprietà dell'agraria. Ma non solo. Secondo quanto riferito dall'ex consigliere di maggioranza Pasquale Marino, una società della Toscana, la Unicop Tirreno SC, sta legittimando i terreni per costruire oltre 50.000 metri cubi di appartamenti e un supermercato. E la domanda che sorge spontanea è, il sindaco lo sa? Chi vincerà? Tidei? La speculazione edilizia? In attesa di conoscere il verdetto marino, non può fare a meno di mettere in risalto un dato di fatto. Il terreno in oggetto, da diverso tempo, è stato illegittimamente recintato, quindi chiuso, privando così i cittadini della fruizione degli usi civici, che sono i diritti collettivi su terre private e pubbliche, e sono caratterizzati dalla imprescrittibilità e possono avere per oggetto le diverse utilità di offerta della terra. Ad intervenire inoltre anche il forum ambientalista, che chiede all'amministrazione di presentare le proprie opposizioni contro tale proposta di legittimazione. E lo faccia entro il 20 luglio, termine ultimo per presentarle. Passo successivo, accordarsi con l'agraria per restituire all'uso pubblico tale area, creandoci, sottolinea il forum ambientalista, il tanto agognato parchio archeologico naturalistico. Riteniamo altrisì doveroso, infine, che la dirigenza attuale passata dell'agraria spieghi alla città perché una sentenza emessa nel 1990 sia stata tenusa nascosta da ben 13 anni, consentendo che i terreni in questione fossero oggetto di diverse compravendite tra privati. Decisamente anomala la situazione in cui versano i cittadini residenti in via Montanucci e zone limitrofe della città di Civitavecchia. Quasi ultimata la realizzazione di una carrozzeria con annesso forno di verniciatura, prove ridosso delle abitazioni. I cittadini informano di avere già presentato esposti alla Procura della Repubblica e dalle Forze dell'Ordine, rilevando l'insalubrità della struttura realizzata proprio in una zona ad alta densità abitativa. Il Comune di Civitavecchia è dotato di un'apposita zona industriale atta ad ospitare edifici e strutture destinate ad attività produttive, constatano dal Comitato dei Cittadini di via Montanucci ed aggiungono. È noto che la maggior parte dei carrozzieri di Civitavecchia è stata obbligata a lasciare il centro abitato e ad acquistare o affittare capannoni siti in detta zona, venendo peraltro sottoposti a stringenti controlli dalle ASL competenti per accertare la messa a norma degli impianti. E sarebbe proprio il piano regolatore del Comune di Civitavecchia ad escludere la realizzazione di industrie in zone prevalentemente destinate ad abitazioni. Secondo il Comitato si tratterebbe quindi di un palese attacco alla salute dei cittadini che proprio la normativa in vigore vorrebbe invece tutelare. Pertanto, concludono dal Comitato, chiediamo a tutte le forze politiche di qualunque colore e ideologia e a tutte le forze dell'ordine, alla Procura della Repubblica, all'ASL, Roma F, all'Arpalazio e a tutti i medici del comprensorio, ma soprattutto al sindaco di Civitavecchia, che è il supremo tutore della salute e dei suoi concittadini, di attivare gli opportuni accertamenti. Non si arresta la discussione attorno alla questione Italcementi, dopo il rinvio della discussione in Consiglio Comunale, ora fissata al 30 luglio, le divergenze in casa PD e le critiche mosse dal leader dell'opposizione Gianni Moscherini all'accordo comune ditta proposto dall'attuale amministrazione, ora a tornare sulla questione, bacchettando proprio l'ex sindaco di Civitavecchia, è l'onorevole del Partito Democratico, Marietta Tidei. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Moscherini torna al suo silenzio post-elettorale. Non usa a mezzi termini la deputata del PD, Marietta Tidei. Nel mirino, le dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco di Civitavecchia, Gianni Moscherini, sulla questione Italcementi. Apprendo dalle sue dichiarazioni, ha detto l'onorevole, che abbiamo creduto utile ridare alla città o pulmone verde, di Chiara Moscherini, con l'immediata demolizione della struttura degli Italcementi, la ricostruzione di unità abitative per ricollocarci tutte le famiglie che vivono alle casermette, la demolizione e la realizzazione di un bel parco. È strano, ha aggiunto Tidei, detto da un signore, che in cinque anni ha fatto in modo di ridurre a poco più che di scariche i parchi realizzati dall'amministrazione del centro-sinistra anni prima, con fondi europei, che non ha neanche iniziato il Bosco Enel, che non ha realizzato alcunché nell'ex area Italcementi, tranne a stalciare un accordo siglato dall'ex sindaco De Sio, con l'ente proprietario, per il passaggio al comune della struttura a un prezzo convenzionato, per lasciarla in disuso senza utilizzarla in alcun modo. E la deputata del PD punta i riflettori anche sui 40 milioni di euro dell'Enel, con cui l'ex sindaco non è riuscito a cavare un ragno del buco, per quanto concerne il verde pubblico e non solo. Massima attenzione anche sulla sfida lanciata dal leader dell'opposizione. Se poi in consiglio passerà la proposta del comune, aveva detto Moscherini, scriverò una lettera con l'ipotesi di chi vince la gara e quali saranno le aziende che faranno la ricostruzione. Metterò la lettera in una busta e la consegnerò a un notaio. Detto dall'autore della tragicomica gara per le terme, ha rilanciato l'onorevole Tidei, con tanto di show elettorale di raccolta curriculum, su cui attualmente indaga la magistratura, fa effettivamente sorridere. E ad affondare il colpo sferrato dall'onorevole del PD è il sindaco Pietro Tidei, che definisce Moscherini peggio di Attila, per i tanti misfatti compiuti. Per Tidei è singolare che la morale ambientalista arrivi da colui che ha cancellato con un tratto di penna quello che di buono aveva invece fatto, proprio sull'Italcementi, l'ex sindaco Alessio Desio. E sì, Attila impallidirebbe, ma lui non arrossisce nemmeno un po'. Sul caso Italcementi interviene anche la CGL, ma lo fa puntando i riflettori sui 20 ex dipendenti della ditta, che sulla base di un preciso accordo dovevano essere ricollocati in altre attività. Ricollocazione ad oggi non avvenuta. Noi, affermano dal sindacato, riteniamo che in un'amministrazione di centro-sinistra si debba mettere al centro sempre la questione del lavoro, nel concreto della sua azione nel rispetto delle persone coinvolte. In assenza di questo preciso piano di ricollocazione di persone che hanno perduto il proprio lavoro, parlare di sviluppo, di occupazione, di qualità della vita avrebbe il sapore amaro della beffa. E la CGL annuncia che utilizzerà il tavolo sull'occupazione previsto il 17 luglio anche per parlare dei dipendenti di Italcementi. Per la prima volta in Italia, le coppie di fatto all'interno delle strutture sanitarie saranno riconosciuti gli stessi diritti dei coniugi. Questa è la decisione presa dalla Direzione Sanitaria dell'ASL Roma-F che sulla scia della mozione presentata in Consiglio Comunale per la realizzazione del registro delle coppie di fatto ha deciso di attuare un proprio regolamento aziendale per garantire i diritti universali a tutti. Sentiamo i particolari nel servizio. All'interno delle strutture sanitarie dell'ASL Roma-F da oggi le coppie di fatto avranno gli stessi diritti dei coniugi. Ad annunciare l'iniziativa unica in tutta Italia è il commissario straordinario dell'ASL Roma-F Giuseppe Quintavalle. Con l'adozione della delibera 194 del 13 giugno scorso, l'ASL Roma-F, si legge nella nota inviata dalla Direzione Sanitaria, compie un significativo balzo in avanti nel riconoscimento dei diritti universali. Dopo l'istituzione del registro delle coppie di fatto da parte del Comune di Civitavecchia, infatti l'ASL Roma-F ha stipulato con gli amministratori di Palazzo del Pincio una convenzione con la quale ha potuto redigere un apposito regolamento aziendale che darà la possibilità ai familiari legati da vincoli affettivi di poter assistere un paziente. Sarà inoltre data la possibilità di accedere alle informazioni e alle comunicazioni, prosegue la nota dell'ASL Roma-F di tipo sanitario che lo riguardano nel rispetto della normativa sulla privacy. Gli effetti della decisione sanitaria sanciti nella delibera citata consentiranno alle persone coabitanti non legate da matrimonio, parentela, adozione o tutela, ma solo da vincoli affettivi, di avvalersi della specifica iscrizione al registro istituito in Comune per vedere riconosciuti pienamente i loro diritti anche nelle strutture sanitarie della Roma-F. Intanto a Palazzo del Pincio proseguono i lavori per l'istituzione definitiva del registro sulle coppie di fatto. Stilato il regolamento che avrebbe già superato l'esame in conferenza dei capigruppo, ora aspetterà al segretario generale verificare che non ci siano incongruenze. Passo successivo, un nuovo passaggio in conferenza dei capigruppo e l'approdo, previsto a breve, in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. ...solvere alcune problematiche del Tribunale. Dopo la polemica per la verità cercata solo da Palazzo del Pincio, tra il Comune e l'Avvocatura, interviene la deputata Marietta Tidei che proprio l'altro giorno aveva in programma un incontro con gli avvocati proprio per discutere dei problemi del Palazzo di Giustizia. Incontro che poi è saltato a causa di impegni istituzionali della parlamentare. Il mancato incontro, ha fatto sapere la Tidei, mi dà l'occasione di ribadire la mia ferma volontà di pormi come interlocutore di tutte le istanze che provengono dal territorio. Intanto il delegato ai rapporti col Tribunale di Palazzo del Pincio, Fabrizio Lungarini, ha messo nero su bianco una serie di richieste ai neonati circoli di qualità voluti dal primo cittadino, che hanno come oggetto principalmente la questione dei giudici di pace. Lungarini propone alcune soluzioni, per esempio relative alla nuova sede di cui avrebbero bisogno, che peraltro farebbe risparmiare al Pincio decine di migliaia di euro di affitto che oggi paga per la sede di Via degli Orti. Una delle proposte riguarda l'utilizzo di Villa Albani con lo spostamento degli uffici che ora insistono su quello stabile nei locali della ex scuola di Via Regina Elena. Altro tema, quello della sicurezza con la richiesta di un vigilantes anche dai giudici di pace. Si conoscerà il 13 novembre la sentenza sul caso del fioraio Civitavecchiese accusato di pedofilia. Questa mattina infatti si è tenuta all'udienza preliminare dove il legale di difesa, l'avvocato Fabrizio Lungarini, ha avanzato la richiesta di poter svolgere il processo con la formula del rito abbreviato e del gruppo Federico Bonca Calbagna, ha accolto l'istanza, rinviando poi l'udienza al 13 novembre appunto, quando si terrà direttamente la discussione e quindi verrà emessa la sentenza. Il caso, come si ricorderà, era esploso grazie a una denuncia presentata dai genitori di un bambino che secondo l'accusa era stato vittima delle attenzioni morbose dell'uomo. La sede della Fondazione Caricib ha ospitato questa mattina una conferenza stampa nella quale l'associazione volontaristica Adamo ha presentato il progetto Una settimana diversa, finanziato dalla Fondazione e diretto a bambini affetti da malattie oncologiche in cura presso il Policlinico Gemelli. Ascoltiamo le interviste. Fondazione vicino alla Damo, vicino al volontariato. Durante la conferenza lei ha ringraziato questa associazione per la funzione che svolge. Mi piacerebbe che approfondisse questo importante concetto. Il concetto di base è che noi abbiamo delle associazioni a Cina, vecchia, di grossa rilevanza, alla quale quest'anno, ma tutti gli anni mi sembra, si è aggiunta l'ACOP, che è l'associazione dei bambini portatori di malattie quasi terminali o comunque malattie gravi. E ogni volta noi siamo vicini a questo discorso, ma vicini dal punto di vista concreto, economico. Chi va ringraziato sicuramente sono queste associazioni che veramente con la benegazione portano avanti questo discorso cercando di dare un po' di serenità a questi bambini che sono veramente malati seriamente e che hanno questa settimana per vivere momenti diversi da quelli che sono costretti invece a vivere abitualmente dentro quattro mora, soffrendo chiaramente a causa della loro malattia. Noi come fondazione più di questo non possiamo fare, però sicuramente siamo a disposizione per ogni cosa come non siamo sempre stati e continueremo ad esserlo perché queste sono situazioni veramente gravi, veramente tristi se vogliamo e dobbiamo far vedere un po' a tutti che esistono anche queste tristi realtà e che tutti noi dovremmo fare qualche cosa per venire incontro a certe situazioni, per dare sempre più una mano, anche materiale se è del caso, ma comunque dare una mano che poi servirà sicuramente a lenire le sofferenze di queste povere creature. Un ringraziamento lo facciamo anche i volontari, tutto ciò è reso possibile anche dai volontari dell'Adamo perché si impegnano gratuitamente a dare una parte del loro tempo libero e realizzare tutte queste cose. Il progetto Una settimana diversa poi è un progetto che raccoglie una serie di iniziative che l'Adamo sta facendo sul territorio, non ultima la realizzazione dell'ospice oncologico e nei progetti anche come già ha preannunciato il presidente Cacciaglia di una radioterapia, per cui stiamo affrontando il problema a 360 gradi su quello che è l'oncologia e vediamo di riuscire a ottenere qualche risultato positivo per il nostro comprensore. Ed ora un breve spazio pubblicitario e tra poco con la nostra consuata informazione.